Ben ritornati a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, parliamo di calcio mercato perché oggi voglio dare un consiglio alla dirigenza Rosso Nero, comunque voglio fare questa segnalazione di questo ragazzo. Voi vi chiederete ma come mai, come fai a conoscerlo, chi è? Allora ci conosciamo un pochino meglio. Io, lo sapete tutti, o meglio i vecchi iscritti lo sanno, magari chi si è iscritto da poco non lo sa, ho la fortuna di lavorare nel mondo del calcio, ho studiato, ho un percorso accademico universitario legato alla gestione del città di calcio e quindi ho la fortuna per l'appunto di lavorare in questo fantastico mondo. Quindi sono un grande appassionato, vedo tante partite, seguo diversi campionati e già da diverso tempo ho sul mio tacquino un giocatore che sicuramente nei prossimi anni emergerà e sicuramente sarà un grandissimo talento. E con questo video voglio consigliarlo alla mia squadra del cuore, al Milan, ed è un giocatore che secondo me rientra proprio nell'identikit perfetto per il Fondo Iliot e per le esigenze attuali tecnico-tattiche della nostra squadra. Lo conosciamo meglio, si chiama Mohamed Yattaren, giocatore in forza al PS In Doven, è un classe 2002 quindi giovanissimo, ha 19 anni, è un giocatore che secondo i dati di Transfer Market, secondo le statistiche, di Transfer Market vale già 12 milioni di euro, ma mi sento di consigliarlo perché la sua situazione contrattuale è una situazione contrattuale favorevole, perché ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e quindi nonostante sia giovane, nonostante ci sia già grande seguito da parte di alcune squadre attente ai giovani in giro per il mondo, magari meno blasonate ma sono molto attenti ai giovani, meno blasonate rispetto al Milan ma molto attenti ai giovani ed è un calciatore che nonostante ribadiamo la giovane età, solo 19 anni, ha in qualche modo ottenuto già di ottimi risultati. Nella stagione 2021, l'ultima trascorsa 19 anni, ha totalizzato 22 presenze, segnando 3 reti e fornendo 2 assist, nella stagione prima, nella 19-20, ha totalizzato 22 presenze, 3 gol e 6 assist. Basti pensare che ha già un'esperienza, nonostante abbia 17 anni in prima squadra, ha esordito in Europa League con 6 presenze, 1 gol e 3 assist, mentre nella qualificazione all'Europa League ai turni preliminari, in 3 presenze, realizzò ben 2 reti. Quindi è un giocatore, è un trequartista, intanto specifichiamo, il centro ampista offensivo è un trequartista, che gioca e sa giocare anche molto bene sull'estero. Un giocatore raffinato, un giocatore di talento, un giocatore di estro, che ha visione, che ha un gran dribbling, ma soprattutto è un giocatore molto elegante, il classico giocatore da San Siro, il classico giocatore da giocate sopraffini, che secondo me si sposerebbe molto bene con la filosofia del Milan, potrebbe giocare da sottopunta, potrebbe alternarsi molto bene con Brahim Diaz, potrebbe giocare anche sulla fascia destra, e quindi è un giocatore che mi consento di consigliare vivamente al Milan. Mohamed Yattaren, giocatore di Piazindoven, giocatore che ha avuto la fortuna di crescere nei Paesi Bassi, un campionato dove vengono fatti emergere fin da subito, fin dalla giovanissima età, i ragazzi, dove anche Clivert Junior l'ha testimoniato, dove i giovani possono giocare, dove possono sbagliare, dove possono crescere. E Yattaren, sicuramente un giocatore che va, sicuramente segnalato sui tacchini del Milan, perché è un giocatore di talento, un giocatore di prospettiva, e lo sappiamo tutti come il Milan si è attento a questi giovani, e questo può essere un profilo che secondo me potrebbe fare il caso nostro. Non possiamo permetterci probabilmente grandissimissimi campioni, allora preferisco comprare un giovane di buone prospettive, e farlo crescere con la stessa filosofia con cui il Milan si è mosso negli ultimi anni, due anni e mezzo possiamo dire. E come sempre se vi è piaciuto questo video, fatemi sapere intanto se lo conoscevate questo profilo e cosa ne pensate, magari vedete qualche video che circola su YouTube, è un giocatore veramente molto interessante. E come sempre se vi è piaciuto questo video vi chiedo di mettere mi piace, di condividerlo, di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.